Parte dalla Spezia, in Liguria arriva a Napoli, l'operazione congiunta dei comandi dei carabinieri che ha portato a numerose ordinanze di custodia cautelare nei confronti di persone accusate di associazione a delinquere e truffa aggravata. Gli arrestati specializzati in truffia e di anziani agivano uniti in gruppi in tutta Italia. L'operazione denominata Sciacallo è partita da una truffa a una donna compiuta nel giugno scorso alla Spezia. I truffatori agivano spacciandosi per avvocati appartenenti alle forze dell'ordine e corrieri. Alcuni dei indagati sono i risultati legati alla criminalità organizzata di tipo camorristico operante a Napoli. Le indagini condotte dai carabinieri del reparto operativo, nucleo investigativo del comando provinciale della Spezia, hanno permesso di accertare diverse decine di truffe consumate o tentate che hanno portato anche l'arresto in flagranza di otto persone alle denunce di altre sette. Per tutta la mattinata sono state operate numerose perquisizioni a carico di persone che vivono a Milano e il sequestro di auto. I carabinieri hanno identificato il titorale di una ditta di autonoleggio di Napoli come presunto componente dell'organizzazione criminale a cui risultano intestate le autovetture che venivano usate dai trasfertisti per andare a compiere le truffe. Le persone anziane venivano raggirate con il metodo del falso avvocato del falso carabiniere, i commercianti e le aziende mediante il raggiro del falso corriere, gli utenti e la strada mediante il raggiro dello specchietto rotto, il GIP del Tribunale della Spezia disposto del sequestro preventivo di 22 veicoli, auto e furgoni nella disponibilità del sopracitato autonoleggio di Napoli.